Sarno, Salerno, Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Sarno, riporta le preoccupazioni dei residenti di Via Pioppazze, nel rione delle palazzine popolari, circa le condizioni della strada di accesso all'area. I cittadini lamentano la scarsa manutenzione della vegetazione, che ha raggiunto un'altezza tale da rendere difficoltoso il passaggio e sollevare dubbi sul mancato intervento degli enti competenti. Sirica fa appello ai vertici dell'amministrazione comunale di Sarno, affinché si intervenga rapidamente per risolvere la problematica. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa.